La qualità per superare la crisi ha segnata la Coppa d'Oro 2012 della Camera di Commercio tra i premiati e anche l'attrice Isabella Ferrari. La produzione delle DOP piacentine in sei anni è raddoppiata. Dosi tolga la delega al lavoro a Rabuffi. La richiesta arriva dal segretario provinciale della CISL Marina Molinari per l'esponente di rifondazione in seguito alla vicenda Ikea. Il sindaco difende il suo assessore che si dice tranquillo, oggi niente blocchi di Facchini e Cobas ma prosegue il muro contro muro. Logistica ha chiuse otto aziende per irregolarità, lo ha rivelato il responsabile della direzione provinciale del lavoro Millo stamattina in un convegno alla CGL. Trespi di ultimatum a IREN, 15 milioni di interventi nel settore idrico non realizzati, obiettivo un piano di rientro per gli investimenti, le tariffe dei servizi bloccate fino alla fine del mese. Minori in auto con la droga, 11 anni ma con 13 aglias diversi, dormiva con una quindicenne su una golf parcheggiata a Cassa San Giovanni, a bordo, cocaina e arnesi da scasso.